Che cosa dire per far capire il significato di queste giornate che non sono solo festa e non sono solo ricordo? Ma io vorrei iniziare proprio per rispondere a questa domanda con una mia esperienza ancora di nove anni fa quando sono arrivato qui al cimitero monumentale. Un prete mi diceva, io al cimitero monumentale non ci andrei mai. E invece un mio giovane scout mi diceva, ti hanno mandato alle porte dell'eternità. E io in questi nove anni mi sono chiesto, ma ha ragione il mio amico prete o ha ragione Matteo? E dopo nove anni credo che Matteo abbia proprio ragione. Qui siamo alle porte dell'eternità. Quindi credo che questo è il significato di questi giorni. Anche se le persone, la gente, man mano che passano gli anni, o mi accorgo, lo vive più a livello interiore che non con le celebrazioni, con la preghiera comunitaria. Lo vive più proprio a livello di persone e di cuore. Mi sono accorto che in questi giorni tanta gente visita il cimitero, anche tanti giovani. Quindi già la visita al cimitero è una grande riflessione sulla vita e sulla morte. E volevo terminare anche leggendo, se posso, una piccolissima frase che io ho scritto in questo libretto Forti, allora, questi giorni. Ci ricordano che i santi e i nostri defunti sono vicini a noi. Uno può dire, ma se stanno in cielo, se sono lontani? No, niente affatto. Perché il cielo non è un posto disperso tra le stelle e i pianeti. Il cielo è Dio. Il cielo è dappertutto. Dio è dappertutto. Io credo che quando invochiamo per nome i santi e i nostri defunti sentiamo che loro ci sono davvero. Sono qui. E ad ogni invocazione potrebbero rispondere, presente, sono qui, sono vicino a te.